L'ultimo tentativo diplomatico della Confederazione tedesca di reclamare l'Alsazio e Lorena era presto degenerato in un conflitto politico tra le ambasciate di Francia e Confederazione tedesca. Il primo ministro inglese, il marchese di Salisbury, Gascogne Cecil, tentò di forzare la mano avvallando la richiesta tedesca, dispiegando la flotta imperiale a largo di Calais e milacciando i francesi di porre fine all'eterna contesa sulle regioni di Darur. Le conseguenze di questa manovra furono inaspettate. Lo zar Nicola II, forte alleato dei francesi, colse la palla al balzo per reclamare i territori della Polonia occidentale ancora nelle mani tedesche, dispiegando numerosissime divisioni a ovest di Varsavia. Il 31 marzo del 1901, Guglielmo II, sentendosi intrappolato, diede l'ordine alle armate tedesche di invadere le città di Colmar e Metz. Il suo piano era quello di occupare le città in poche settimane e fare leva sul peso britannico al fine di ottenere una veloce pace. Tuttavia le cose andavano diversamente. In pochi mesi, da Parigi, una possente armata, costituita dall'esercito francese e dai suoi alleati europei, tra cui portoghesi, olandesi e altri numerosi volontari, diede inizio ad una devastante controoffensiva fino ad arrivare alle porte di Colonia. Mentre a est, l'orso russo combatteva lungo il fronte della Prussia orientale, mirando Berlino. A Roma, il primo ministro Giuditti e il ministro della guerra Luigi Pellù lavorano giorno e notte da settimane. La prima guerra mondiale è esplosa e il mondo sa che l'intervento italiano potrà cambiarne radicalmente le sorti. Amici e amiche di Andrew Channel, bentornati a un nuovo episodio di Storia Alternativa con il Regno d'Italia, e questo è un episodio molto particolare, perché è il 7 novembre 1901 e siamo nel bel mezzo di una grande guerra, forse veramente possiamo dire la prima vera e propria guerra mondiale, che vede da un lato il Regno Unito, la Germania del Nord e la Danimarca scontrarsi e vincere al momento contro la Francia, l'impero russo e una coalizione di stati come l'Olanda, il Portogallo e la Svizzera, stati minori. Allora, l'obiettivo di questa guerra è la liberazione dell'Alsazio e Lorena. Se i tedeschi riusciranno a strappare questa regione ai francesi, non soltanto la Francia verrà ecclissata, ma nel caso in cui poi riuscissero con la diplomazia a imporsi in Baviera, in Württemberg e in Baden, potrebbero finalmente unificare la Germania e quindi ottenere lo status di secondo Reich. Ce la faranno? Questo non è dato saperlo. Noi come Italia al momento siamo fuori da questi giochi, ma stiamo guardando con estrema attenzione, inoltre abbiamo l'infamia 15-60. Quindi potremmo iniziare a fabbricare un casus belli per poter entrare, diciamo così, di soppiatto, attaccare i francesi, insomma, cercando di cogliere la palla al balzo. È un'idea che mi interessa molto. Nel frattempo, prima di iniziare, voglio vedere se riesco a abbassare l'opinione. No, più di così non si può. Qui in Ottoman Empire va tutto bene. In Spagna i francesi stanno cercando di migliorare le relazioni con gli spagnoli. in Persia. Lo UK sta migliorando le relazioni con la Persia. Questo non mi piace affatto. E basta. Per ora diciamo che così può andare. Allora, io direi di togliere il tasto di pausa. Innanzitutto abbiamo il military che è al massimo. e potrei riflettere sulle alleanze che hanno in momenti i francesi, ossia Russia, Olanda, Portogallo e Luxemburgo. Che però sono impegnati, d'altra parte, a loro volta nella guerra mondiale. Quindi, fondamentalmente, se io adesso dichiarassi guerra alla Francia, forse soltanto la Svizzera potrebbe cercare di bloccarmi in qualche modo, però io quasi quasi faccio un giustifica cut down to size. Costa 13 di infamia, però il cut down to size praticamente ci permetterebbe di chiedere ai francesi di deporre le armi per 5 anni di mezz'anno il loro esercito. E questo sarebbe veramente molto doloroso per loro. Quindi, adesso inizio a fare il caso sbelli. Veramente, incrocio le dita che non venga, alza la velocità, incrociamo le dita che in questo caso sbelli non venga intercettato subito, altrimenti finisce molto male per noi. Intanto abbiamo migliorato la tecnologia militare e direi che è giunto il momento di proseguire su questa linea, perché è molto importante avere la tecnologia militare alta. Vediamo se ci sono movimenti ribelli che possiamo reprimere. Ok. C'è sempre il rischio... Ah, abbiamo vinto le Olimpiadi, bene. C'è sempre il rischio di vedere Giacobini e i comunisti che si rivelano con 68 e 33. Eh vabbè, e qui c'è poco da fare. Purtroppo... O abbassiamo la tassazione, ma non mi sembra il caso. Intanto dobbiamo iniziare ad alzare gli armamenti, direi, se vogliamo buttarci in questa guerra. Vediamo cosa dicono i giornali. Paura in Punjab. Crisi evitata. Socialisti liberali sono sempre testa a testa in Parlamento. Oh, masse, le masse vengono misguided, manipolate. Good call. Ai ai ai. Caso sbelli contro la Francia, fino al 25 febbraio sarà più lento. Peccato. Però, 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 siamo già al 26%. Questa è una Francia che ha il secondo esercito al mondo. Quindi dobbiamo fare estremamente attenzione. Ma è anche una Francia, secondo me, che è molto impegnata. E mi sembra di capire che lo UK... Oh, c'è andata benissimo, Otto di Infamia. Bene, non abbiamo il bad boy, come si suol dire. Lo UK ha tantissimi uomini che sono bloccati sui porti. Quindi noi dovremmo cercare di liberare forse lo UK dal blocco navale francese per permettergli di sbarcare in Francia. Questo potrebbe cambiare anche un po' le sorti della Prima Guerra Mondiale. Facciamo molta attenzione perché la Germania per ora sta combattendo sui due fronti con grande forza. Però l'Austria è fuori dai giochi al momento. Questo è molto positivo. E se noi dichiarassimo guerra alla Francia, l'Austria sarebbe fuori dai giochi. Molto bene, molto bene, ragazzi. Siamo al 50%. Io direi di iniziare a fare la mobilizzazione dell'esercito. Mobilitare è molto importante perché ci dà subito modo di raccogliere truppe che poi possiamo utilizzare per attaccare. Perché dovremmo attaccare i francesi, non possiamo rimanere in difensiva questa volta. Però sarà interessante, 56%. E' incredibile che lo UK si sia fatto in finocchiare in questo modo. La Svizzera chiede un diritto di passaggio e lo neghiamo. Guardate quanti uomini che potrebbero entrare in guerra. Stiamo parlando di 816, 361. Praticamente 350.000 britannici che non aspettano altro che invadere la Francia. C'è una nuova crisi, tra l'altro. Le crisi, ragazzi, bisogna toccarle con le pinze. Grecia e Impero Ottomano, me ne frego. Non sto né con uno né con l'altro. Crisi fallita perché nessuno ha accettato di prendere parte. Ci credo, ragazzi. Ci credo, bene. Ti direi che il mondo è un pochino impegnato al momento. Siamo al 75% praticamente e io oserei dire che la nostra flotta può in tutta tranquillità spostarsi all'algo della Spagna. Speriamo di poter portare i nostri amici spagnoli con noi. Io ovviamente chiederò alla Spagna di entrare in guerra. È molto importante che accettino. Molto importante perché quegli spagnoli che attaccano il sud della Francia sarà un ulteriore, come dire, spina le fianco. E per me è importante che la Germania si unifichi. È molto importante perché veramente creerà un equilibrio di potere che finalmente in Europa si... Cioè, avvertiamo da tempo. Altrimenti l'asse Austria-Francia risorgerà. E pare che adesso anche la Russia stia con... Si è diventata compagna di merende. E non mi fa piacere, diciamocela tutta. Però vedo che la Germania sta giocando molto bene questa prima guerra mondiale. Per fortuna. Ok, la nostra flotta è in posizione. Mancano pochissimi giorni. Ha la possibilità di entrare in guerra contro la Francia. Quindi sarà una seconda guerra all'interno della prima guerra mondiale. Però sempre... Il teatro è lo stesso. E soprattutto avrà il merito di bloccare le forze francesi che si dovranno... Così di stricare su diversi fronti, da un lato. E dall'altro faremo entrare... Faremo intervenire... Morale più 50%. Boom! Questo mi serviva. Faremo intervenire gli ok. Ok, abbiamo il caso Sbelli, signori. Dichiariamo immediatamente guerra alla Francia. Cut down to size. Praticamente, non so quanto costa, 50 reward score. E per 5 anni avranno l'esercito tagliato del 50%. Ci pagheranno un quarto del loro income. Vediamo se chiamare gli alleati adesso ha senso. Vediamo. Belgio entra. La Spagna entra. La Germania c'è già. La Persia sicuramente. Allora, allora, allora. Va bene, dai, io li chiamo tutti. Adesso. Vediamo un po'. Lo succede. La Persia ha onorato. Sembra che... La Spagna non abbia onorato l'alleanza. E neanche il Belgio. Cosa è stranissima. Però non ho letto il messaggio. Ah, ecco. La Svizzera ha onorato. Ok. Va bene, praticamente tutti gli alleati... Infatti, i francesi hanno onorato l'alleanza. Dei nostri soltanto la Persia. Direi che è abbastanza inutile, forse, ma... Va bene così. Allora, Garibaldi di attacco a 2. L'esercito della Puglia... Oh, difesa a 3. Andiamo a prendere Lione. Andiamo a prenderci Lione, ragazzi. La cosa più importante è rompere il blocco navale nella manica. Prima cosa. Seconda cosa, proviamo a vedere se... La Francia ha modo di portare uomini a sud. Pare di no. Pare di no. E in questo caso direi che... Tanto nuova tecnologia militare. Iniziamo un'opera di assedio, proprio. Miglioriamo anche i fucili. Mi aspetto di vedere i russi che potrebbero attraversare l'Austria per attaccarci, però i russi sono ancora impegnati contro i tedeschi. E questo va a nostro grande vantaggio. Allora, la Spagna è ancora alleata con noi? Sì. Ah, non possiamo chiamarli perché hanno una tregua. Adesso capisco. E credo che lo stesso discorso valga per il Belgio. Sì. Ecco perché non sono stati chiamati. Va bene. Signori, guardate cosa è successo. Non appena abbiamo rotto il blocco nello stetto di Dover, 80.000 britannici sono sbarcati. Qui abbiamo altri 64.000 britannici che sono scesi per attaccare la Francia. Questa è un'ottima notizia perché è proprio l'obiettivo, quello di piegare la Francia e... Wow. Soltanto la Svizzera al momento potrebbe procurarci quel grattacapo e è ovviamente la Francia in Africa che già sta vincendo contro l'UK. Questo me lo aspettavo, ma... è un problema marginale. Davvero. Allora, intanto iniziamo a spostare parte delle nostre leve verso il confine e quasi quasi, signori, io inizio anche a... Cioè... Va bene tutto, ma visto che ho modo, inizio anche ad assediare la Svizzera. Magari Lugano e... Eh sì, il Vallese. Inizialmente. Poi vediamo se gli Svizzeri intervengono e cercano di attaccarci. Faremo supporti alla difesa. Ecco qui, esattamente quello che intendevo dire. Benissimo. Mi piace molto questa situazione che si è venuta a creare. Magari andiamo ad affondare altre navi francesi. Questo ci fa guadagnare punti. Allora, ricordiamoci che nel 1903 potremo chiedere agli spagnoli di supportarci. Qui abbiamo 2.000 uomini del Lussemburgo che proteggono Chur. Forse potrebbe essere una buona idea quella di schiacciarli e cercare di prendere anche questa città. Il problema della Svizzera è che caspita, deve avere un... deve sicuramente avere un... come si chiama? e adesso lo trovo supply limit molto basso perché, guardate qua, abbiamo 22.000 uomini e adesso viscono attrito. È del 2%, mamma mia. Signori, la Francia sta veramente messa male. La Russia invece sta messa benissimo. Però, ripeto, è un problema che al momento ci tocca relativamente poco. Tanti iniziamo a dare anche delle leve in Francia. pare proprio che nessuno ci darà noia. E quindi, se proprio devo dirvela tutta, che ce frega. Abbiamo veramente tanti uomini che possono assediare. che lo UK e la Germania stanno facendo a loro volta assedi in Alsazio e Lorena. La Francia si sta prendendo. Quindi, potrei aspettarmi da un momento all'altro che la guerra finisca, la prima guerra mondiale, e noi ci ritroveremmo comunque in guerra contro Francia e Russia. Sarebbe un'ipotesi è un po' noiosa. Quindi speriamo che la guerra non finisca subito e soprattutto nel frattempo allora cerchiamo di guadagnare una posizione di vantaggio. La nostra comunque non è una guerra mondiale. Quindi, quella in cui siamo noi. È la guerra italo-francese. Quindi potrebbe essere una buona idea quella di chiedere una pace separata agli svizzeri per la possibile semplicemente per buttare fuori un nemico che non ci interessa. Parigi è già sotto assedio. No, ci sono 25.000 francesi a difenderla. E che dire? Eh, sì, ci potremmo andare noi. Vediamo. Però i britannici sono già alle porte di Parigi. Ok. Anche detto che le città che prendiamo noi sono città che sottraiamo ai tedeschi e ai britannici. Tedeschi che non appena avranno sistemato il problema che hanno in North-Rhein-Westfalen potranno spostare i loro uomini su fronte orientale e combattere i russi. Perché ora il fronte francese ops, mi è scappato il mouse. Il fronte francese signori è messo benissimo. Dovete dire grazie al popolo italiano e soprattutto alla flotta italiana. Perché il grosso l'ha fatto la flotta liberando le truppe che erano già dell'alleanza anglo-tedesca. Tanto qui in Svizzera va bene, dai. Abbiamo fatto cadere un po' di di città. Abbiamo liberato ancora il Channel. Opponiamo una pace di Svizzeri? Non accettano comunque nessuna pace separata. Dicono attaccatevi il piffero. Ok. Eh, allora noi ci andiamo a prendere Zurigo. E magari attacchiamo anche Berna che è la capitale. Mai vista una Francia messa così male. Mai vista. Intanto è dicembre 1902 signori 4 aprile 1903. Eh, allora che cacchio avevo letto prima? Scusate avevo letto 1902. No, ancora 4 mesi praticamente e potremmo chiedere a belgi e spagnoli di entrare in guerra al nostro fianco. Tanto qui noto che avevo dimenticato una città e la andiamo a prendere con un altro esercito di leva. E i britannici spaccano. Infamia direi che non ci serve. Siamo a 2347 per pura fortuna potevamo essere sopra già il 26 con conseguente alleanza di altre nazioni qualsiasi genere gli Stati Uniti che so per contenerli l'arroganza italica ma niente di tutto questo signori allora io quasi quasi mando il 5th army che ha un generale con attacco più 2 si ci sta lo mando a Parigi e cercherò di prendere la capitale francese magari a supporto andiamo è sempre esercito di leva perché che ce frega dai pure no qui abbiamo un esercito buono mandiamolo a Parigi e poi da Parigi ci espandiamo magari verso sud e cerchiamo di prendere le altre città Montpellier nostra andiamo a Carquesson qui l'esercito reale ha fatto un'altra ottima mossa in Borgogna Masson e va bene a Parigi ci sono 124 mili italiani che stanno cercando di sfondare le linee difensive francesi intanto diamo un'occhiata all'andamento della guerra in generale prima guerra mondiale ah qualcuno è uscito la Danimarca è uscita e quindi non hanno più 50 punti ne hanno 44 tra UK e Francia e dall'altro lato qualcun altro è uscito perché solo l'Olanda credo perché solo Svizzera e Portogallo hanno deciso di rimanere in gioco e va bene invece dal lato nostro scusate mi sono dimenticato 7 punti perché le battaglie sono andate bene e le occupazioni che facciamo in Francia ci danno tanti punti ci rilevano quelle che hanno loro in Africa ma ripeto gli stiamo dando molto fastidio nichilismo e la volontà ottimo possiamo fare una riforma direi di fare i sussidi di disoccupazione perché ci serviranno visto che qui le fabbriche ragazzi senza boom no qui ragazzi miei c'è da fare qualcosa c'è da fare qualcosa per la disoccupazione a questi mi fanno altro che rivoluzione comunista mi mettono al governo satana se se non aiuto mettiamo sussidi qualsiasi cosa cioè devo assorbire tipo 200.000 disoccupati adesso con i sussidi di disoccupazione però spese sociali che no bassissime che sussidi voi che gli dio che gli dio che gli dia hanno avuto una crisi mistica no vabbè dai rischio tantissimo quelle rivolte tanto combat leader ha migliorato va bene andiamo avanti con il military directionism ormai qui si studiano soltanto tecnologie militari l'andazzo è quello e qui stiamo vincendo ma quanti morti stanno erano 120.000 italiani contro 30.000 francesi adesso siamo 80.000 wow no 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 fermati intanto in Svizzera Berna è caduta allora io oserei dire una cosa se sono d'accordo accettano la pace bianca you won a total victory we negotiate on behalf of our entire alliance they are merely negotiating for themselves procedi Svizzera fuori dalle scatole vediamo se possiamo fare lo stesso giochino con l'Olanda non accettano non accettano forse potrebbe essere un'idea quella di andare a bloccare il porto di Amsterdam chi altro rompe le scatole Bela Russia col cavolo Portogale Lussemburgo la Russia mi fa paura mi fa paura soprattutto in quest'area quindi io sposto un po' di uomini verso l'Austria magari è una paranoia però allora mando l'esercito di guerra a Parigi a questo punto perché servono altri uomini che schiaccino questa difesa che tenace eh lo sapevo che avevano delle rivolte i nazionalisti croati abbiamo vinto a Parigi ottimo allora fermi tutti fermi tutti dove era l'esercito che stava andando a Parigi vabbè chi lo può sapere io direi di mettere il second army qui e l'altro all'esercito di guerra è già a Parigi wow il fifth ad Orlean e a questo punto boh andiamo avanti ad assediare qui abbiamo eserciti che si sono liberati li mandiamo a Torino e a Chambéry e inizia su confine poi deciderò cosa fare di loro ok togliamo la pausa la Svizzera è fuori dai giochi non che fosse pericolosa però è proprio sul confine e può fare scherzi dispetti non mi piace e abbiamo gli anarcho-liberali che si sono ribellati invece in Italia non in Croazia questa volta e dobbiamo sistemarli per fortuna che abbiamo un po' di uomini nel dato nostro non ci siamo dimenticati di prendere la Corsica questo non è bello e signori 25 aprile 1903 la Spagna entra in guerra e mi farà tanti piaceri spero contro il Portogallo e anche il Belgio accettato benissimo quindi spagnoli per favore attaccati i portoghesi adesso now e vediamo se l'Olanda è ancora ambasciatore insultato oh no no ok e l'Olanda è fuori dai giochi bloccato il Porto di Amsterdam per qualche mese hanno cambiato subito idea riguardo a il loro ruolo nella guerra franco-italiana va bene ma sazia Lorraine è tutta nelle mani dell'alleanza anglo-tedesca il resto della Francia sta per cadere Parigi è sotto a sedia da parte degli italiani io direi che il grosso della guerra adesso sta avvenendo a Est Savasandir ci sono i russi che dicono aspetta un momento la Francia è caduta ma ci siamo ancora noi che siamo grossi e cattivi questi non ho idea di dove stiano andando abbiamo perso tre punti perché abbiamo degli eserciti che sono anti-ribelli guardate che giro stavano facendo questa è l'intelligenza artificiale di Victoria ho perso tre punti per questo perché andavano a cazzo di cane dov'è l'altro? dov'è l'altro? è qui va in Belgio va a fanbagno l'intelligenza artificiale di Victoria mamma mia che rabbia va bene è andata eh va bene gli ho persi come stiamo messi più 7 abbiamo bisogno di più 50 vi ripeto più 50 che però si ottengono ah Lussemburgo vuole la pace sì certo più 50 che si ottengono agilmente con le battaglie campali che poi possiamo magari portare in Russia a questo punto è un'idea quella di andare a supportare la difesa della Germania quindi portare le nostre truppe in Russia comunque con l'Italia nella prima guerra mondiale l'equilibrio si è leggermente spostato diciamo così non posso aggiungere Wargol no non è proprio non è possibile vediamo ma una volta presa Parigi secondo me potrebbe veramente essere una buona idea quella di spostiamo l'armata romana a Magdeburg dai avanti iniziamo a prepararci per una per il supporto del nostro alleato tedesco poi c'è da sperare che la Germania comunque nel tempo ci voglia sempre bene perché se per questi fanno la Germania fanno il secondo Reich e poi ci fanno la guerra c'è veramente messi male non credo che sarà il caso però non si può mai sapere intanto passiamo dalla Francia con le nostre truppe portiamo direi centomila uomini delle leve Parigi è nostra buono e mano a mano che cadono qui a città portiamo altri uomini degli eserciti diciamo così professionali intanto la Spagna ci dà la mano il Portogallo è già andato quasi quasi me lo tengo però non gli faccio la pace separata perché gli assedili del Portogallo li faccio pesare sul tavolo della pace allora vediamo un po' dove trovare qualche russo da solo tipo qui ci sono 30.000 russi che non hanno capito poverini cosa gli aspetta andiamo a Gorlitz 18.000 uomini no già ce ne abbiamo 36.000 dove cazzo andà ah questi altri che Hunting Rebels eh vai a capire dove ci dirò gli Hunting Rebels adesso mi sono dimenticato di levarli ma uh caspita az questo è un problema per i tedeschi diamogli una mano perché cosa sono North German Red Guards hanno i comunisti che si ribellano yuhu bandiera rossa la trionferà e la Germania mi sa che se non ci fossi io sarebbe già un pochino col culo per aria eccoli ecco dove cacchio andate allora adesso non so quale generale abbia il valore massimo di attacco ma io qui azzurra intanto ho vinto bene io qui a Berlino ho vinto ok questi russi li schiaccio e li schiaccio forte perché guardate quante botte gli stiamo dando allora fatemi vedere la battaglia in sé battaglia di Ausisch avremo un generale che ha 3 punti in attacco ma meno 4 in difesa contro un generale con 3 punti in difesa cosa positiva è che sono 5000 uomini contro ecco abbiamo vinto adesso io mando l'esercitino più piccolo voglio vedere se riesco a dare una mano nella liberazione proprio delle delle città tedesche Magdeburg abbiamo vinto sì quindi stiamo facendo il lavoro sporco ma direi che può bastare il resto se lo faranno loro sono curioso curioso però niente qui devo prestare soccorso perché Pietro Pecori Giraldi si è fatto prendere in castagna altra riforma ragazzi vai di nuovo dove sono low subsidies aumentiamo i sussidi di disoccupazione perché la disoccupazione che abbiamo adesso è tragica quindi perlomeno qualche soldo in tasca agli italiani che perdono il lavoro arriva ok perfetto attenzione fatemi vedere sì sì stiamo liberando stiamo liberando perfetto stiamo liberando ragazzi questa guarda andrà avanti per le lunghe fatemelo dire la Persia come è messa contro i russi ah è messa che è uscita dai giochi e alle ribellioni per sé era stata occupata dalla Russia ed è uscita dai giochi ok adesso siamo a più 13 the great world più 55 il fatto è che la Francia è estremamente messa proprio male portogallo lasciamolo soffrire ancora un po' va bene ok sembra che i russi facciano un po' fatica un pochino proprio un pochino poco poco ragazzi allora vediamo un po' non ho tenuto conto del tempo ma credo che l'episodio possa concludersi qui mettiamo la pausa prima guerra mondiale che sta andando molto positiva per l'Italia e la Spagna e il Belgio che fanno parte diciamo così della seconda ondata della guerra ma anche la prima ondata l'alleanza anglo-tedesca sta stravincendo contro il fronte franco-russo l'Austria è sempre la finestra che guarda io vi chiedo di mettere un pollicione in su su questo video se vi è piaciuto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e ci diamo appuntamento al prossimo episodio grazie per essere stati con me ragazzi alla prossima grazie a tutti